L'amore che provo per la mia terra mi ha spinto a intraprendere un viaggio quest'estate a bordo del mio filato Defender. Un meraviglioso viaggio in fuoristrada ed alloggiando, solo in tenda, è quello di Giuseppe Giulia dell'agenzia Enco di Capodorlando che nei mesi scorsi hanno attraversato gli angoli più sconosciuti della nostra isola e quelli più noti per andare a conoscere e raccontare storie positive, storie di chi in Sicilia ha avuto il coraggio di investire e ce l'ha fatta. Questo racconto vedrete degli spaccati di Sicilia in cui le persone stesse si racconteranno tramite i video che abbiamo fatto e racconteranno la loro storia, quindi racconteranno il modo in cui sono riusciti a creare un'impresa, a creare qualcosa che funziona e a farlo in Sicilia. Nella decisione di tornare qui a vivere in Sicilia dopo anni passati fuori c'era proprio la necessità di capire se si poteva fare e nel rendermi conto che si può fare era inevitabile che poi venisse fuori questa cosa qua, questa voglia di fare, di fare bene, di fare ancora meglio e renderti conto che è possibile, diciamo che è una bella sensazione che ti accompagna durante il viaggio. Quel viaggio è diventato anche un diario ed è per un innovativo format televisivo dal titolo Everyday Sicily, che Antena del Mediterraneo si accinge a trasmettere a partire dal 4 dicembre, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 13.45 e alle 19.45. Un racconto fatto di immagini, testimonianze ed anche di importanti messaggi positivi verso chi non si rassegna a lasciare la nostra regione per emigrare. Nessuno di queste persone diciamo ci conosceva da prima e noi non conoscevamo loro, quindi c'è stato un lavoro dietro da parte anche dell'agenzia Enco che ci ha supportato e abbiamo lavorato per mettere in moto tutto questo meccanismo e per saperci presentare al meglio anche a loro, che non avevano idea diciamo di chi fossimo. È un bellissimo racconto perché parla di tante persone, di tantissime belle persone. È stato strutturato a puntate nel senso che abbiamo viaggiato e giorno dopo giorno abbiamo conosciuto ogni singola persona che ci ha fatto tanto e ci ha regalato tantissime belle cose. Quindi vedrete 34 puntate e stiamo già lavorando alla seconda serie di Everyday Sicily.